Arte e bellezza con Franco Curletto L'ironia è la base di tutto questo lavoro, dove tu vedi certe citazioni che possono essere Man Ray, dove vedi traspare il senso dell'uomo, della donna, metà uomo, metà donna, oppure citazioni che possono vagamente ricordare una Marilyn, ma dove l'ironia porta a essere una donna comunque bruna e non bionda. Tutte le caratteristiche, dal lusso se vogliamo stesso che esprime tutto quello che è il macchiaggio, l'onda che ricorda vagamente Marilyn, ma assolutamente nera, quindi questo sta come ironia perché è un gioco, il gioco fa parte comunque di quello che è il lavoro. Io lavorando mi sono sempre, se il lavoro me lo rappresentassero come divertimento, io dico che la parola per me è divertimento, io mi diverto. Io sei namorare, io sei bella di lingua, ora, solo mi resto sognare, io sei onde ir, io sei onde ficar, ora, solo mi falta sair. Non ho facilità per la televisione, io non sono audizia per la solidà, io sono di niente, io sono di tutto il mondo e tutto il mondo mi piace bene. Abbiamo fatto una piccola operazione di previsione, noi come fotografo e lui, un grande cofro di moda, lavoriamo sempre sul futuro, futuro però relativo a sei mesi. Qui abbiamo detto, proviamo a immaginarci come sarà una generazione in futuro fra 50 anni, fra 100 anni, con che estetica si presenterà e anche con che sguardo, con che forza e così è nata questa ricerca. Grazie a tutti.